Città, autostrada, business, famiglia, qualsiasi sia la tua esigenza. La Opel Astra Station Wagon è l'auto ideale. Hai il motore 1.5, CDTI, 122 cavalli e alimentazione diesel in allistimento Ultimate. Bellissima in questo colore Blue Nautic. Km zero aziendale, certificato e garantito. Ha passato i 150 punti di controllo dei nostri Automotive Expert. I consumi sono pochi, 4.1 litri per 100 km. Si adatta perfettamente a tutte le esigenze, perché è ampia e comoda per le famiglie con figli piccoli, ma dà la linea elegante e sportiva, pratica per le città e al tempo stesso energica per lunghi viaggi. Vediamo insieme tutte le caratteristiche che la rendono così speciale. Cerche in lega da 17 pollici e il battistrada in buonissime condizioni. Nella silueta esterna abbiamo un buon compromesso di spigoli e linee tese, tale da renderla super grintosa e che dire di questo frontale. E un concentrato di energia con la calandra bassa, da qui spicca il simbolo Opel al centro. E poi questi fari, dallo sviluppo diagonale, conferiscono uno stile deciso e moderno. Come lunghezza siamo poco sotto i 5 metri. Come lunghezza siamo poco sotto i 5 metri. Il bagagliaio ha capienza minima di 540 litri, che si possono ampliare fino a 1000 litri, abbattendo i sedili posteriori. La chiusura è hands free. Le portiere hanno l'apertura molto ampia, perfetta per caricare i sigiolini dei bambini. Gli attacchi Isofix, supporto lombare per il massimo della comodità di seduta, proprio l'ideale per lunghi viaggi o per chi trascorre tanto tempo in auto per trasferimenti frequenti. Il volante è ergonomico, con l'impugnatura salda e i comandi da cui gestire cruise control e infotainment. Salendo a bordo si ha subito la sensazione che nulla si è lasciato al caso. Tutta la parte della plancia è ben organizzata e ipertecnologica. Nella parte alta abbiamo un display touch da 8 pollici, da cui possiamo andare a gestire tutto l'infotainment della vettura. Sistema IntelliLink ad altissime tecnologie, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Il cambio è manuale. Sono presenti i sensori di parcheggio posteriore con la retrocamera, che vi permetteranno di parcheggiare in tutta sicurezza. Allora, vai su ratiauto.com e scopri tutte le nostre auto. Blocca l'auto dei tuoi sogni senza impegni e con soli 100 euro. Ricevela a casa con igienizzazione. Ricordati che hai 14 giorni per il diritto di rcesso. E seguici su tutti i nostri social. Ciao!